Zdenek Zeman potrebbe far ricorso al vecchio adagio calcistico, squadra che vince e non si tocca. In effetti il tecnico boemo, dalle indicazioni che si desumano dalle ultime sedute di allenamento, sembra intenzionato a confermare la squadra che ha sconfitto nettamente il Genoa domenica scorsa l'Adriatico Cornacchia in quella che è stata la prima vittoria sul campo in campionato del Delfino. Oggi i biancazzurri hanno sostenuto la seconda doppia seduta settimanale dopo quella di mercoledì. Nel pomeriggio in particolare Zeman ha fatto disputare una partita a campo ridotto. Da una parte la formazione dei titolari con Zampano, Stendardo, Coda e Biraghi in difesa, Memushai, Bruno e Verre a centrocampo e tridente offensivo Ben Ali, Cerri, Caprari. Sul fronte opposto Vittorini, Bovo, Fornasiere e Crescenzi in difesa, Montari, Brugman e Milicevic in mezzo, Pepe, Castanos e Mitrizza in avanti con la giunta di Kubas da una parte e Muric dall'altra. Anche oggi all'appoggio diversi tifosi hanno assistito alla seduta, a dare ulteriore colore alla giornata di allenamenti, anche la visita a sorpresa delle Iene che hanno intervistato Zeman, il cui ritorno su una panchina di Serie A continua ad avere una vasta eco amplificata dal 5-0 del debutto. Tornando ai prossimi impegni c'è grande curiosità per la gara di domenica al Bentegodi di Verona contro il Chievo, per capire se il Pescara del nuovo corso del Boemo ha la forza e l'entusiasmo per lanciare una comunque difficilissima rincorsa salvezza o meno. Con il Chievo il Pescara ha bisogno di fare risultato e ci proverà avendo nelle gambe una settimana intera con Zeman che ha lavorato sulla parte atletica ma anche per inculcare i suoi primi concetti di gioco. Sul fronte Veneto il Chievo non ha problemi di classifica essendo in una posizione centrale di assoluta tranquillità, ma due giornate fa ha battuto a domicilio il Sassuolo e dopo il K.O. interno con Napoli non vorrà chiudere in bianco il doppio turno casalingo. Mancherà Pellissier mentre Cesar è in dubbio per un attacco influenzale, anche se nelle ultime due gare il tecnico Maran gli ha preferito i vari Spolli, Dainelli e Gamberini. In attacco dovrebbe toccare all'ex inglese, sostenuto da Castro e Birsa, ma dopo il gol a Napoli anche Meggionini rivendica una maglia da titolare. Tra Chievo e Pescara un solo precedente in Serie A in terra scaligera risale al 31 ottobre 2012 con vittoria Clivenze per 2-0, reti nell'ultimo quarto d'ora di Lussiano Surigore e Stoian.